Sono Marcello Feracco, presidente dell'associazione Passa Cinese, veneziani, cinesi e italiani. Siamo un'associazione giovane, italo-cinese, e facciamo attività per i più piccoli, con dopo scuola per bambini italiani e cinesi, poi dei corsi di lingua, sempre corsi di italiano per le persone cinesi e corsi di cinese per le persone italiane. E poi facciamo eventi culturali in cui conoscersi e incontrarci tra persone di diverse culture che vivono a Venezia. Il nostro motto è Veneziani, cinesi e italiani, insieme per la Venezia di tutti.